Torniamo al tango argentino, in questo caso scenario. Vi presentate? Chiara Andrea Dove siete? Bologna E da quant'è che ballate? Balliamo insieme da quando abbiamo 16 anni, vi abbiamo da 5 anni e adesso facciamo praticamente prevalentemente tango argentino ma veniamo dalle danze lattine che ci hanno portato sempre Io li conosco, li conosco, mi ridite il numero per favore? 422, quanti anni avete? 22 Io 18 22 Ok, che fate argentino? E' scenario Aspetta che devono mettersi in posizione Prego A presto 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 A presto